ma importato. Lui lo conosco, lo conosco. Noi dovremmo essere quasi live, c'è il solito indicatore qui della pagina Facebook che sta caricando, si sta apprestando ad andare in onda, ecco, dovremmo esserci, dovremmo esserci. Bene, benissimo. Buonasera a tutti, sono Roberto Reale, presidente dell'Associazione Utopia, siamo stasera al trentaseiesimo, trentasettesimo, perdo sempre il conto, comunque appuntamento del nostro ciclo di incontri Restart con protagonisti dell'innovazione nazionale. Stasera abbiamo con noi Alberto Bortolotti, che è architetto ed è consigliere dell'Urdine degli Architetti di Milano, il quale ci parlerà, innanzitutto, di un suo saggio che è uscito a dicembre per maggiori editori sul modello Milano e poi ci parlerà appunto del ruolo che Milano può e deve riprendere anche in questa fase molto delicata di, se vogliamo, possiamo dirlo ormai, insomma, colpo di coda della pandemia è una fase in cui già ci affacciamo in modo prepotente poi a quelle che saranno le sfide per una ripresa. Alberto, anzitutto grazie infinito di essere qui con noi e vorrei anzitutto che ti presentassi in modo molto molto rapido, prima di passare anche un po' al nostro tema. Sì, buonasera a tutti e a tutti, grazie Roberto e grazie all'Associazione Utopian per questo momento di confronto sul tema delle città europee, di cui Milano è senza dubbio una protagonista. Io, come ha detto Roberto, ho di recente pubblicato questo libro, Modello Milano, una ricerca su alcune grandi trasformazioni urbane recenti, edito da Maggioli Politecnica, nella collana Politecnica. È un libro che ha l'ambizione di problematizzare la questione del modello Milano, della quale mi sono sempre occupato, proprio anche in virtù della mia carica istituzionale presso l'ordine degli architetti e per, diciamo, la collaborazione che attualmente svolgo presso il Politecnico di Milano, dove mi occupo di politiche urbane e del territorio. Quindi ho analizzato i processi, i fenomeni delle città che sono molto correlati tra loro, soprattutto nella dimensione internazionale che abbiamo assunto, soprattutto negli ultimi due decenni, e che ha avuto una conferma, diciamo, di questa globalità, anche proprio nella pandemia Covid, che, come abbiamo visto, ha colpito tutto il mondo, a dimostrazione che ormai i flussi sono talmente rapidi che purtroppo anche grandi calamità come è stato il virus hanno una propagazione larghissima. E quindi questo è sicuramente un segno anche dei tempi e dei fenomeni che caratterizzano il mondo di oggi. Alberto, c'è stato qualche momento nei mesi scorsi in cui si è un po' scatenato, se vogliamo, quello che potremmo chiamare anche senza agire di parole, un sentimento anti-milanese, e peraltro proprio nei momenti in cui Milano veniva colpita più duramente, tantissimi, un po' dalla provincia italiana, probabilmente non vedevano l'ora di potersi, ecco, di poter sfogare quel rancore che evidentemente molti in Italia provano per Milano e per i suoi successi. E poi naturalmente si è parlato anche di ritorno ai borghi, quindi di abbandono del modello della città, ma non soltanto da parte dell'uomo della strada, ma anche da parte di protagonisti dell'urbanistica e del pensiero urbanistico italiano. Nel libro mi sembra che però tu appunto proponi un punto di vista diverso, proponi comunque, ribadisci la centralità della città come luogo di aggregazione dei flussi umani, finanziari soprattutto, dei flussi anche, dei scambi di esperienze, e anche la città come luogo in cui poi l'architettura può avvenire in modo più premiante. Secondo te, ecco, questo tema del ritorno ai borghi e dell'abbandono del modello della città è un po', insomma, ha una sua premianza oppure è soltanto un po'? Certo. Ma allora, io penso che sicuramente il mondo del Covid dà l'opportunità di valorizzare un sistema di borghi, di realtà periferiche, rurali, che gravitano intorno alle città, che spesso sono anche parte integrante della filiera produttiva stessa delle città, quindi sono catena del valore, direbbero gli economisti. Quindi sicuramente questa emergenza pone un tema di rilancio dei borghi. mi sembra che tra l'altro il Recovery Plan, quindi Next Generation Italia, ponga anche questa questione perché è stato stanziato proprio un'ingente somma sulla digitalizzazione e l'innovazione dei borghi, dei centri storici, dei piccoli centri collegati, diciamo, nella sfera delle aree rurali del paese, anche a livello europeo. Detto ciò, come ha confermato Stefano Boeri in un'intervista che mi ha rilasciato per Pandora poco prima, insomma, della fine dell'anno scorso, le città non perderanno la propria centralità nel mondo proprio perché c'è un tema di paradigma economico che tende a favorire le città. Cioè, vale a dire che in accordo anche con gli studi di illustri economisti e sociologi urbani, penso ad esempio a David Harvey che cito nel mio libro, la capacità finanziaria globale è garantita dal fatto di poter fluidificare il flusso finanziario fissando, quindi in alcuni luoghi ben precisi, una parte del capitale. Cioè, io rendo il capitale flessibile e dinamico se immobilizzo una sua parte tramite investimenti di grande portata. E questi investimenti di grande portata, ovviamente, oltre all'infrastruttura, dov'è che si capitalizzano? Nelle città. Quindi, in grandi trasformazioni urbani. Boeri, però, possiamo dire che ha fatto un po' un dietrofronto, quindi rispetto alle sue dichiarazioni dell'estate, no? Di giugno, luglio, insomma, in cui lui parlava, era tra quelli che parlavano di un ritorno ai borghi ormai inevitabile. Invece, appunto, mi dici che dall'intervista che lui poi ti ha concessa, insomma, sia un po'... Ma, diciamo che secondo me era stato anche, come dire, un po' frainteso. Cioè, nel senso che un conto è dire, rilanciamo i borghi, tenendo in considerazione anche comunque lo scenario delle città, che è importante, un conto è, come dire, un fraintendimento di questo concetto, in una direzione solo di, diciamo, la rivincita delle province, che poi, in realtà, tecnicamente, è molto difficile da fare, perché le città sono il grande luogo di scambio culturale, economico, da sempre. Cioè, non è impensabile che in una nuova era non si passi alle città dal momento che le città, storicamente, sono sempre state il motore dello sviluppo. Cioè, lo è stato, ad esempio, con la Lega Anseatica nel Rinascimento. Cito la Lega Anseatica perché Parag Canna, che so che è un autore che anche voi seguite, ad esempio, lui ripropone questo modello delle città come una grande Lega Anseatica del mondo che promuove la cooperazione, anche qui non solo questioni, diciamo, di profitto, ma anche proprio una cooperazione tra gli stati, tra i popoli, tra le culture e le religioni. Ma, Alberto, ad esempio il modello della città-stato, che tu citi ampiamente nel libro, è un modello che è in alternativa appunto a quello che anche l'Europa poi ha formalizzato negli ultimi anni delle regioni. Secondo te possiamo immaginare una rete globale di luoghi, se vogliamo puntuali, quindi appunto di città, in alternativa a un tessuto invece di appunto regioni o macro regioni, su cui ad esempio la Commissione Europea insiste tantissimo. Certo. Ma allora, su questo tema, nel libro io problematizzo il concetto di modello Milano in relazione al modello Milano-Città-Stato, che è stato lanciato anche da varie associazioni, vari, potremmo dire, interessi della città. Io credo che il, come dire, una Milano-Città-Stato in realtà non possa esistere e ne esisterà, intanto non può esistere dal punto di vista giuridico-amministrativo, perché oggettivamente Milano non ha le competenze per essere, ad esempio, Singapore. Quindi questa cosa della città-stato è impossibile. Modello Milano inteso come paradigma di sviluppo che però, come dire, ampli la propria sfera di influenza attuale e anche le sinergie, le cooperazioni con altri territori che gravitano nella regione urbana milanese, che comunque è molto ben più grande rispetto ovviamente a quella che sta nei suoi confini amministrativi. Allora, questo sì può essere un tema di lavoro anche per favorire uno sviluppo, secondo me, del sistema paese. Cioè se l'Italia decidesse comunque di puntare su alcuni driver di sviluppo nelle città, credo che ne gioverebbe tutta l'intera economia e la fila produttiva collegata. Cioè non è solo un tema di rilanciare Milano, ma appunto se si iniziasse a fare una strategia, una geostrategia urbana del rilancio di alcune grandi città strategiche, come penso anche Napoli, penso Palermo, Milano ovviamente, ma una serie di altri poli e polarità oltre a Roma, questo sicuramente favorirebbe l'intera economia. Come del resto hanno pensato di fare, ad esempio in Cina con la strategia delle cinque città-porto così nominate, o penso anche alla Germania che ha puntato su un sistema policentrico di sviluppo, favorendo anche lo stanziamento di importanti sedi istituzionali, ad esempio a Francoforte ai tempi, ma anche su altre città è stato investito e questo vale un po' anche per altri medi e grandi centri in giro per l'Europa. Quindi non è solo un tema. Cioè l'Italia non nasce con un'unica città su cui si fa perno come può essere il sistema francese o il sistema inglese. È una realtà molto più complessa. Però, se vogliamo, è un po' un ritorno a un modello degli anni 90, l'idea di decentralizzare alcune funzioni che tuttora invece sono magari appannaggio delle istituzioni romane, ad esempio sul territorio nazionale. Penso al centro-direzionale di Napoli che nelle ipotesi iniziali non doveva essere soltanto la serie degli uffici della regione Campania, ma anche la serie di alcuni uffici, ad esempio di ministeri romani o di autorità nazionali e così via. Secondo te vedremo un ritorno a questo tipo di impostazione. Ma allora io credo che oggi abbiamo una grande necessità di fare ordine. Cioè io penso che sarebbe corretto, al passo dei tempi, rivedere il sistema costituzionale che definisce le regioni e le province, proprio perché noi oggi abbiamo una situazione per cui ci sono alcune regioni che sono troppo grandi e troppo difficilmente gestibili, proprio perché nascono come astrazione amministrativa. Cioè io penso ad esempio che la Lombardia sia una astrazione amministrativa perché dal punto di vista storico-culturale non è mai esistita una Lombardia con questi confini. Cioè il Ducato di Milano non era la Lombardia, per fare un esempio, e la Lombardia intesa come il Regno dei Longobardi era una cosa ben più ampia della Lombardia attuale. Quindi, ad esempio, questo al contrario di altre regioni che invece legittimamente hanno una propria identità culturale ben precisa, come ad esempio il Trentino, no? Quindi che conta come regione a sé di fatto perché è una provincia autonoma. Quindi noi abbiamo una sorta di caos amministrativo per cui ci sono delle regioni che in realtà sono delle province, altre regioni che sono invece giganti. Quindi credo che debba essere semplificato il quadro, come dire, valutando un unico livello intermedio tra le città e lo Stato e questo quadro può sciogliersi in identità intermedie che siano o raggruppamenti regionali o province autonome o città metropolitane. Però deve esserci un unico livello ponte. Quindi secondo me il tema non è di declassare ulteriormente varie funzioni, competenze, ma semplicemente fare ordine a un quadro estremamente complicato che poi inceppa anche l'esercizio amministrativo. Ma infatti forse uno dei problemi di Milano, se vogliamo appunto anche fare una lettura critica, è anche questa tensione tra un livello regionale e locale, ad esempio penso alla città metropolitana con cui naturalmente anche l'amministrazione comunale deve fare i conti e invece c'è un'aspirazione che probabilmente travalica anche i confini nazionali. Se pensiamo a Milano probabilmente possiamo tranquillamente ascriverlo ad una macro regione che ad esempio arriva fino in Bavie senza alcun dubbio. Però nello stesso tempo la città è in qualche modo vincolata all'interno di confini che sono probabilmente troppo piccoli, come facevi notare. Ma se vogliamo invece parlare un po' più dello specifico di architettura. Tu facevi notare, e lo scrivi anche nel libro, che costruire è un modo da un lato per consolidare asset finanziari, dall'altro anche per esprimere anche uno status. Nel libro parli quasi di una febbre nel costruire che prende anche molti soggetti che magari trovano in quella attività, in quell'atto, un modo per esprimersi. Milano sicuramente è tra le città italiane più dinamiche dal punto di vista del mercato immobiliare e in generale anche dal punto di vista delle nuove edificazioni. Come sta cambiando il volto della città? Sappiamo che... Ma allora, intanto io credo che la città nell'ultimo decennio soprattutto sia cambiata tantissimo. Nel senso che Expo ha veramente rappresentato quel salto di qualità incredibile che ha di fatto posto la città in una posizione di egemonia rispetto agli altri capoluoghi limitrofi che prima invece comunque facevano competizioni a Milano. Se pensiamo alla Lombardia al dopoguerra, noi avevamo tantissime realtà urbane come penso ad esempio a Bergamo, a Novara o altri territori, anche a Torino, altri territori che per il proprio comparto industriale facevano una forte competizione a Milano. Con la deindustrializzazione ovviamente questo processo è pian piano venuto o meno, questa competizione è venuta un po' meno e con Expo si sono capitalizzati una serie di investimenti significativi che per lo più sono venuti da una spinta propositiva nell'avere connessioni con il mondo. Cioè Milano come grande porta d'accesso del sistema italiano al mondo si è garantita una sfera di influenza in termini di risorse umani, quindi penso ad esempio a personale altamente specializzato e anche in termini ovviamente di investimenti. Oggi Milano ha due, almeno due o tre grandi developer che hanno grandi connessioni con il mondo, quindi che utilizzano capitali, e parlo di ad esempio fondi sovrani stranieri che investono, quindi rappresentano gli investimenti di questi fondi che loro chiamano portafogli nella città. Quindi una serie di grandi operazioni deriva attraverso l'utilizzo di finanziamenti esteri che consentono investimenti e trasformazioni urbani di una portata assolutamente internazionale. I tre casi che io tratto nel volume, quindi Cascina Merlata, Mind, cioè il post-expo e Scalofarini hanno una portata in termini di spazi, proprio di volumetrie che assolutamente comparabili. Io nel libro lo mostro bene, questo facendo anche degli esempi con Londra, con Parigi, con Singapore, che appunto sono assolutamente comparabili a grandi trasformazioni famosissime in giro per il mondo. Ad esempio Expo è una trasformazione urbana che è di oltre un milione di metri quadri, che è più grande di Marina Bay a Singapore, che è un intervento stranoto dove tutti quelli che vanno a Singapore dicono, ah fammi andare a Marina Bay che c'è l'hotel con la piscina sul tetto. Ecco, Milano fa un intervento che è addirittura più grande di Marina Bay. Quindi questo per dire che la dimensione internazionale è veramente pregnante nello sviluppo di Milano e questo è stato garantito in larga misura da Expo e anche, secondo me, da un'ottima gestione amministrativa che ha favorito queste trasformazioni, perché chiaramente il pubblico poi svolge un ruolo di arbitro che è fondamentale, che talvolta deve essere, come dire, un iniziatore del processo, talvolta è un semplice garante del processo, un mediatore, dipende insomma dagli iter, però è importante che alla fine si prenda carico, che responsabilizzi l'efficacia di queste trasformazioni e credo che, a prescindere dai colori politici, tendenzialmente chi più chi meno sia lavorati per uno sviluppo della città e sicuramente direi che le ultime due amministrazioni su questo hanno dato il massimo. Penso che ci sarà continuità nella, diciamo, in una futura amministrazione da questo punto di vista, lo spichiamo naturalmente, però come pensi che appunto poi Milano possa, evidentemente guardare a uno scenario internazionale sicuramente nelle corde della città, però poi come Milano riesce, come può riuscire a trasferire parte di queste esperienze nel paese? Ma allora, secondo me c'è un tema oggi significativo che riguarda i rapporti con le province circostanti a Milano, cioè è stato spesso detto Milano non restituisce abbastanza di quello che riceve. E un po' è vero, nel senso che il fatto che abbia una provincia così limitata, che alla fine sono poco più di 3 milioni di abitanti, non riesce a mettere in campo delle azioni che a livello proprio di governance riescano a valorizzare ciò che sta fuori a questa provincia. E già sulla provincia è stato complicato, perché comunque la provincia è la città metropolitana, che è un ente che non è il Comune di Milano. Ora, siccome il sindaco del capoluogo è anche il sindaco della città metropolitana, sono stati messi in campo una serie di strumenti che consentono una sorta di riequilibrio. Penso ad esempio al nuovo piano Remix che prevederà l'utilizzo della perequazione anche sulla città metropolitana e quindi riuscirà di fatto a spostare un po' di investimenti sull'area metropolitana e il pubblico svolgerà una funzione importante come promotore di alcune azioni che punteranno la rigenerazione, la trasformazione per generare proprio spazio pubblico, quindi delle funzioni a servizio del cittadino. Ma ovviamente questo non basta, perciò io credo che sia importante un passaggio costituzionale che appunto riveda quantomeno i confini amministrativi e le competenze in capo alle città metropolitane che fin quando ovviamente non hanno a sé una competenza di pianificazione è difficile perché oggi sappiamo che appunto la materia legata alla pianificazione è di competenza regionale, che poi questa in Lombardia sia fortemente localista. Noi in Lombardia noi diciamo abbiamo i piani, il governo del territorio, quindi c'è una linea localista, si dice, della pianificazione per cui si tende a delegare, ma formalmente questa competenza è in capo alle regioni, che è il motivo per cui ad esempio analogamente su altre regioni italiane le regioni hanno bloccato talvolta anche dei progetti e dei piani strategici a livello nazionale proprio perché lo Stato aveva delegato alle regioni questa competenza e quindi magari lo Stato realizzava il porto, ma poi l'infrastruttura doveva essere pianificata alla regione che non lo faceva e si compromettevano anche dei grandi progetti di portata internazionale proprio dal punto di vista della strategia del sistema paese. Quindi la proposta è spostiamo questa competenza dalle regioni in capo alla città metropolitana. Esatto, sì. Non si rischia una fermentazione poi troppo alta delle competenze perché abbiamo, probabilmente ci siamo resi conto che, sì, insomma, già la BR regionalizzato appunto questo tipo di competenze in modo storico naturalmente forse può creare delle disparità dal punto di vista dell'efficienza dell'azione pubblica a seconda naturalmente della regione ed è ovvio che se la regione è una regione virtuosa naturalmente è conveniente per quella regione che sia così. però appunto riducendo ulteriormente il livello geografico e quindi frammentando maggiormente poi questo tipo di competenze non rischiamo che ci sia appunto un minore coordinamento e una maggiore disuguaglianza tra i territori. Allora, secondo me, per farla breve, il grande tema è che Milano può restituire se è messa nelle condizioni di farlo. Cioè se ho le competenze per restituire posso farlo. Se no, non chiedetemi di fare una cosa che non riesco ad amministrare. Cioè secondo me il tema è questo, che se le regioni hanno in capo la competenza e quindi dovrebbero le regioni fare così nel territoriale e non riescono a farlo perché poi alla fine questa competenza viene demandata in una parte ai comuni che quindi ovviamente tendono a tutelare i propri interessi diventa una guerra diciamo tra comuni per cui il comune più grande alla fine c'ha sempre la ragione tra le rigolette perché amministra le funzioni principali e quindi per forza esercitano una pressione egemonica rispetto ai comuni più piccoli intorno. Ma allo stesso tempo non c'è un raccordo, se invece ci fosse proprio una diversa competenza data ad alcune delle città più grandi, le città metropolitane, queste poi potrebbero fare politiche di integrazione con i poli minori circostanti. Bene, 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 è molto sensato effettivamente, non so se da questo punto di vista ci sia già una formalizzazione, una corrente dell'opinione pubblica su cui si possa far leva poi per portare questa proposta nelle sedi adeguate. Tornando appunto un attimo a Milano, io so che ci sono anche, forse questo è leggermente, non è centrale rispetto ai temi del libro, però sicuramente è la qualità delle interconnessioni dei servizi, ad esempio di trasporto pubblico, ma anche appunto della digitalizzazione e dell'innovazione in generale appunto del Comune di Milano. Questo lo dico anche un po' per il nostro pubblico che è molto sensibile ai temi dell'innovazione. Come, ecco, qual è secondo te il grado appunto di sviluppo in questi temi? Ma allora, secondo me è stato fatto molto, nel senso che rispetto alla digitalizzazione, ad esempio guardando alle pratiche di dizia si è fatto un passo in avanti. Senz'altro c'è molto da fare, nel senso che bisogna, secondo me, perfezionare i meccanismi di digitalizzazione affinché questi non siano solo, cioè siano in grado anche di risolvere i problemi, perché molto spesso un servizio appunto digitale è pensato con un'unica formula che magari poco si applica nella gestione di alcuni spazi. Ma questo, diciamo, il tema delle applicazioni non riguarda solo semplicemente appunto tutte le procedure amministrative, ma riguarda anche, penso ad esempio, l'applicazione della Smart City. Cioè io posso ipotizzare un sistema di Wi-Fi pubblico, di illuminazione, sostenibile, di servizi, ad esempio per la Shell Mobility, in determinati contesti che hanno certe caratteristiche adattabili, perché magari è un punto, ad esempio, dove ho la banda larga che è sostenibile per mettere un Wi-Fi pubblico, ho un approvvigionamento energetico che mi consente di installare una serie di colonnine di ricariche dei monopattini o degli scooter elettrici. E naturalmente queste sono delle procedure che prevedono una serie di azioni e applicazioni di questo tipo che non sono adattabili ovunque. Quindi il tema, a mio parere, è cercare di prevedere proprio a livello di piani un'articolazione di casistiche molto più ampia e molto più definita. Perché altrimenti, ne parlavamo prima rispetto ai borghi, non riusciamo ad applicare queste strategie in realtà che sono già compromesse. Cioè se io utilizzo una standardizzazione che è troppo netta, risulta poi non applicabile. E qui infatti ci scontriamo, secondo me, ci scontrano due scenari, uno della scienza che è appunto pensata sempre in via teorica inizialmente e poi quella dei territori che sono tutti diversi tra loro. Cioè non esiste un territorio che sia effettivamente uguale a un altro. E quindi necessariamente dobbiamo rendere tutta la strumentazione tecnologica che abbiamo a disposizione applicabile a diversi contesti. Poi tra l'altro tutto questo io lo leggo anche ai cinque piani, alle cinque dimensioni che tu usi per interpretare un po' il fenomeno della città come fatto urbanistico. e possiamo anche elencarli, magari per i nuovi addetti ai lavori poi diremo cosa sono. Ma io ce li ho qui, ce li ho anche stampati della testa perché sono cinque dimensioni che mi hanno colpito molto, però me le sono anche appuntate. Sono appunto la sostenibilità, la mixité, la vivacità, il consenso e la resilienza. Ora immagino che per resilienza o per sostenibilità ormai un po' tutti crediamo quanto meglio la vivere dei chiari su cosa significa. Ma quanto riguarda la mixité, immagino che chi non è un urbanista di mestiere probabilmente non sa cos'è, però io questa dimensione la trovo invece forse la principale perché mi sembra che ci sia un'inversione di rotta invece rispetto alla specializzazione dei luoghi che fino a qualche anno fa era probabilmente la categoria principale e la vedo anche un'alternativa o un antidoto invece a quei non luoghi di cui parla. Ecco, vuoi dirci qualche parola su questi temi? Senz'altro la mixité è un tema chiave. Uno delle tre grandi trasformazioni che analizzo è il caso di Cascina Merlata sviluppato da Deuro Milano che è un operatore molto attento al tema della sostenibilità, della smart city, della costruzione di ecosistemi sociali che costruiscano place making sano quindi che sia effettivamente, che coinvolga effettivamente la cittadinanza che sviluppi sinergie col territorio e col quartiere, con i quartieri circostanti. Ecco, loro realizzano un intervento che è un ottimo esempio di mixité perché riesce a urbanizzare una parte, una nuova parte di città, un nuovo quartiere però favorendo appunto l'installazione di edilizia libera ma anche edilizia convenzionata e housing sociale, cioè diverse tipologie di insediamento abitativo che con standard altamente sostenibili e tecnologici per ad esempio la mitigazione dell'inquinamento e comunque anche con attenzione rispetto al consumo di suolo perché ad esempio ovviamente l'applicazione di elementi ed edifici a torre consente di condensare la volumetria e salvare porzioni di suolo che io poi destino ad aree verde ad esempio, no? Quindi in questo caso la mixité è garantita proprio dall'idea di avere tutti edifici che sono a basso consumo energetico con l'utilizzo ad esempio di pompe di calore, di pannelli solari e una serie di dispositivi che consentono di avere comunque ottime prestazioni per tutti gli edifici ma differenziandono l'utilizzo, la destinazione sociale di questi edifici. Quindi ho edilizia libera di ottimo pregio proprio a livello come dire anche di ricchezza dei materiali e poi destinata a un pubblico che ha più disponibilità invece housing sociale che può essere destinato a famiglie di giovani, nuove famiglie che nonostante utilizzano una soluzione che ovviamente non ha gli stessi magari comfort dell'edilizia libera, allo stesso tempo ha degli spazi assolutamente gradevoli e ottimi se paragonati a altre costruzioni edilizia libera da altre parti della Lombardia, no? Quindi ho comunque degli spazi di altissimo livello e riesco a garantirli proprio attraverso un utilizzo della progettazione molto 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 accurato. E la mixité è garantita da questo, cioè dall'idea che diverse popolazioni possano trovarsi in un luogo comune e lo stesso luogo comune è salvaguardia della mixité, nel senso che avere un habitat protetto ma allo stesso tempo integrante che favorisca l'utilizzo degli spazi pubblici comunque con una qualità europea. Quindi noi definiamo europea nel senso che ha standard più elevati che una semplice standardizzazione fondata sulla modularità delle abitazioni. questo consente una vivività molto molto maggiore. Ad esempio la Commissione ha elaborato degli standard in merito a questo nell'agenda urbana con il patto di Amsterdam e piano piano questi criteri si stanno adottando nelle realtà più innovative degli Stati membri. ovviamente Milano guarda molto all'Europa e quindi c'è un'attenzione privilegiata ma penso che l'obiettivo in generale sia proprio quello di scardinare un sistema dell'urbanistia che tende a essere molto che in passato è stata molto come dire cioè che ha concepito adesso non voglio usare parole brutte per chi ha fatto i grandi piani del passato però oggettivamente erano piani largamente statici cioè dove si fa fatica oggi estrema fatica a mettere mano per modificare interventi di quartieri dormitorio dove si è avuto un enorme enorme trasformazioni con anche grande utilizzo del suolo a fronte di spazi che sono difficilmente modificabili mentre l'urbanistica di oggi potrebbe essere molto più flessibile cioè ipotizzare dei piani che siano delle griglie su cui poi si sviluppa in base alle esigenze del momento quindi io mantengo un controllo del disegno urbano ma sviluppo differenti strategie in base in base al momento quindi non penso proprio la progettazione finale nel piano ma la vedo in progress possiamo parlare anche di modello agile in un certo senso no quindi non più il modello appunto in cui la programmazione deve essere fatta fin dall'inizio scolpita poi nel piano regolatore poi magari per poi disattenderlo e procedere per varianti ma invece appunto si lascia della della flessibilità e la possibilità di appunto intervenire su scala più piccola in base come dicevi alle alle esigenze ma d'altra parte tutti integrati intervento poi quella volta insomma no ma poi d'altra parte insomma tu ti la metti un po della della precedente piano regolatore di bilano ma a roma noi ne abbiamo ne avevamo uno del cos'era del 65 se non erro e fino al 2003 non ne abbiamo avuto un altro e dal 65 al 2003 tutti gli interventi sono stati fatti appunto in variante quindi con una se vogliamo nessun nessun tipo di coordinamento quindi che fosse da questo punto di vista milano un po più diciamo di vantaggio ce l'ha ce l'ha avuto peraltro tu nel libro tocchi anche quest'altro tema cioè un po la l'opposizione la dicotomia milano roma anche se tu la legge più mi sembra di capire come una complementarità quindi una roma che vive di classicamente no delle della presenza delle istituzioni nazionali e che intorno a sostanzialmente il vuoto nel senso che ha un'area l'influenza che si estende probabilmente su quasi quasi fino a napoli o comunque e e a nord probabilmente fino a fino a perugia se non se non oltre e laddove invece milano vive naturalmente di una dinamicità economica e finanziaria ed ha intorno una struttura molto più articolata se vogliamo molto più più centrifuga rispetto invece a quella la struttura che ha intorno roma quindi possiamo parlare di due modelli complementari e non in secondo me assolutamente nel senso che io non credo che roma debba vedere milano come un competitor perché appunto roma ha una grande rendita di posizione che gli è data appunto come dicevi tu dal dallo stato vaticano dai ministeri dal dalla politica insomma una serie di funzioni che le consentono di rimanere tranquillamente il centro il motore politico del paese quindi non non credo che un ulteriore sviluppo di milano comprometterebbe la capitale e la sua influenza tanto è vero come citavi tu e come dice secondo me bene cellamare che è un ottimo urbanista dell'università di roma che appunto lui dice roma si trova su un vuoto urbano perché in effetti non ci sono polarità limitrofe che possano in qualche modo competere con la capitale ma neanche minimamente neanche su singoli settori nel senso come dicevi prima che appunto ha un'egemonia che si stende sostanzialmente da 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 napoli a firenze e anche per ragioni storiche del resto perché appunto lo stato pontificio ha avuto sempre come come capitale roma che più o meno si stendeva su quella su quella grandezza lì sostanzialmente milano si è conquistata invece il proprio ruolo anche 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 faticosamente e punta avere un ruolo internazionale ora ovviamente le ambasciate rimangono a roma quindi anche dal punto di vista internazionale roma potrebbe usare il proprio ruolo molto meglio e avere più investimenti più connessioni con con l'estero che garantirebbero un come dire un utilizzo della propria strumentazione più più accurato come in termini proprio di geostrategie e milano al contempo ad esempio ha tantissimi consolati e tantissime sede di camere di commercio straniere quindi ovviamente per quanto riguarda il comparto economico ha una centralità internazionale che appunto lo ripeto secondo me è assolutamente complementare alla capitale le due città si si completano anche per il fatto di che roma è come dire una città centro anche del mediterraneo mentre milano è senz'altro più legata al contesto europeo e lo sarà penso anche molto di più con con la brexit perché se nella brexit uno dei 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 vertici del cosiddetto pentagon cioè il quel 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 pentagono che definiva i confini diciamo a spanne però diciamo i confini del del single market europeo e con questo spostamento con questa uscita del dell'inghilterra e milano che era già un vertice avrà ovviamente più perno perché di fatto il single market io prevedo che si sposterà più a esso cioè andrà a comprendere se prima il single market era sostanzialmente londra milano e il blocco del reno più ovviamente parigi con la brexit probabilmente il vertice più a piove sarà parigi e ci sarà uno spostamento verso verso berlino e vienna come come polarità a est quindi un sostanzialmente uno spostamento del del baricentro del pentagono più più a est che però vede a quel punto milano ancora più più centrale ma anche 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 varsavia potenzialmente che ha avuto negli ultimi anni una celebrazione fortissima sia sul dal punto di vista dell'innovazione tecnologica sia dal punto di vista del dei mercati finanziari quindi su quello avendo lavorato nelle istituzioni europee secondo me dipenderà anche molto da da come se la giocheranno dal punto di vista le loro rappresentanze politiche nel nel parlamento nella commissione eccetera eccetera come sai anche tu oggi abbiamo un delle istituzioni europee che hanno un personale di dirigenti in larga misura no provenienti dalla germania dalla francia anche l'italia è ben rappresentata però sostanzialmente più del blocco centrale in effetti la polonia essendo di fatto il quarto il quarto paese più più grande potrebbe avere un ruolo anche in questo e quindi aumentare come dire il proprio peso no sì è probabile è probabile ma tornando nuovamente al a milano io ehm mi auspico naturalmente che ci sia un che ci sia nei prossimi mesi un una ripresa molto rapida dell'economia naturalmente nazionale ma non posso dire in particolare perché non so magari chi ci ascolta non vorrei non vorrei che ehm ci si trattassero come 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 appunto la la Moratti ma ehm mi auguro comunque che ci sia una una ripresa anche molto soprattutto molto rapida appunto dell'economia eh di Milano e del e del e del suo territorio eh secondo te quali saranno quali 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 sono anzitutto le condizioni affinché questo avvenga nei tempi più rapidi possibile? Ah allora io ehm parlo un po' del insomma del del mercato urbano del mercato immobiliare che che ho studiato in questi in questi mesi e devo dire che dai dati eh quello che sostanzialmente emerge che il c'è stato senz'altro ovviamente una perdita significativa nelle compravendite quello insomma a livello europeo c'è stato ovunque però eh il sistema ha retto nel senso che anche in una recente eh in un recento report nel report annuale di di UBS sulle 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 bolle speculative eh Milano non risulta essere a rischio bolla mentre lo so ad esempio ehm Parigi lo è ad esempio Monaco cioè insomma una serie di di realtà anche Berlino insomma una serie di Amsterdam ad esempio ha avuto eh stata posta a rischio quindi una serie di città in cui solitamente si investiva a livello immobiliare per avere un anche una certezza che eh di fare un investimento significativo che poi avrebbe dato maggiore valore oggi sono a rischio Milano no e questo secondo me eh dimostra benissimo che il mercato rimane frizzante quindi rimane un mercato che che è sano dal punto di vista dell'attrattività e dal punto di vista anche della domanda interna quindi ha un a un buon balance eh contrariamente a ad altri ad altre città quindi io credo che ci siano le condizioni per per ripartire eh visto è considerato che alla fine anche il le previsioni sull'Italia non sono poi così dannose come come sembravano cioè nel senso che alla fine col fatto che sfortunatamente ma è andata così il covid ha colpito in modo aggressivo anche le altre grandi potenze europee eh noi che nel primo semestre tiramo dati eh molto in calo sul pil abbiamo avuto un una una previsione che sostanzialmente sia negativa ma nel contesto europeo poi non è nemmeno così tragica quindi eh secondo me ci sono degli elementi per ripartire. Bisognerà capire molto quale sarà lo scenario internazionale perché come dicevo prima il ruolo di di investitori straniere è importante per il rilancio comunque complessivo della città. se eh la pandemia si determinerà uno uno sviluppo di sistemi più regionali degli investimenti intesi come grandi regioni del mondo quindi non non regionali a livello a livello a livello se la pandemia genererà uno sviluppo di questo scenario probabilmente questo potrebbe essere dannoso anche per anche per Milano ma non penso che ehm che questo avverrà nel periodo al momento che appunto gli strumenti di regolazione finanziaria risultano ancora largamente in capo al al mondo anglosassone quindi io non credo che eh si svilupperà questo scenario e anche per il fatto che sebbene comunque gli Stati Uniti abbiano perso un'egemonia come dire il proprio ruolo di di garante dell'ordine mondiale rimane un c'è un clima di abbastanza abbastanza instabile di di interregno politico che non consente a nessun'altra superpotenza di di porsi a capo del del dell'ordine mondiale quindi penso che la insomma il paradigma rimanga più o meno invariato per ora almeno e nei prossimi insomma i prossimi anni i prossimi due tre anni poi vedremo. Io guarda una domanda particolare da farti dopo però vorrei prima che mostrassi ci mostrassi un po' anche la l'oggetto libro lo so siamo siamo oggi siamo abituati al al libro immateriale però eh eccolo eccolo io questo ho avuto ho avuto la fortuna di leggerlo in realtà il pdf perché essendo a Bruxelles non ha non ho avuto il tempo insomma di di farmelo di farmelo arrivare però consiglio un po' tutti chi ci ascolta e chi ci ascolta insomma di è acquistabile anche su Amazon credo no? Anche le libri di quartiere così Amazon, IBM, Feltrinelli, Mondadori insomma. Bene invece la domanda che avevo che avevo in serbo era forse anche questa leggermente fuori leggermente fuori dal perimetro del nostro libro però del tuo libro però ecco se uno oggi in Italia volesse sappiamo che faccio una premessa appunto il eh o quantomeno si dice che il numero degli architetti in Italia sia molto più alto rispetto alla media anche di paesi simili come come la Francia eh se invece un un architetto oggi volesse pensarsi come imprenditore o come innovatore o come fondatore di di una startup e volesse appunto immaginarsi appunto di creare qualcosa di qualcosa di a metà strada tra il classico studio di architettura e appunto la startup innovativa come prevista anche un po' dalla normativa come ecco come potrebbe fare possibile un un ibrido di questo di questo tipo eh a senso può può essere un'idea di di successo al di là naturalmente del contenuto poi dell'idea stessa. Certo ma allora io penso che senza dubbio l'Italia ha tantissimi architetti eh questo dovuto a una serie di ragioni ovviamente come è stato anche largamente dimostrato e ribadito dal consiglio nazionale architetti quindi non dico cose cose nuove ci sono ci sono troppi architetti rispetto alla domanda. ehm io penso che studiare l'architettura significa acquisire delle competenze che sono estremamente variegate e poliedriche e quindi che consentono tranquillamente di di spostarsi su professioni che non riguardano prettamente la progettazione architettonica in senso stretto. eh quindi credo che un architetto oggi possa essere possa prestarsi a anche a a lavori deputati ad esempio alla consulenza quindi eh che appunto tu citavi l'esempio delle delle startup startup che generano consulenza ad esempio nei settori del turismo del commercio che magari hanno a che fare comunque con la gestione di spazi. credo che questo sia sia assolutamente possibile. Poi mi rendo anche conto che per lanciare una startup uno deve trovarsi anche nelle condizioni eh nelle condizioni eh nelle condizioni adatte per farlo quindi stare in delle realtà urbane che consentino una certa apertura mentale quindi che investano anche su su realtà di questo tipo e ovviamente in Italia non è semplice. cioè ovviamente Milano sì nel senso che Milano sta a un'attenzione per le startup ne sono nate molte a Milano e non solo a Milano eh penso ad esempio anche a a Torino a Bologna per stare nel nord Italia che sono sono comunque città molto aperte all'innovazione. però magari ecco non è semplice lanciare una startup in in realtà che 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 non che non aiutano poi eh con questo questo tipo di percorso. però io credo che eh sicuramente eh sicuramente studiare architettura consenta ti dà diverse competenze non solo competenze eh teoriche come possono essere alcune alcune università classiche tipo giurisprudenza o lettere ma anche competenze banalmente anche solo la capacità di 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 utilizzare con facilità tutta la strumentazione tecnologica programmi e e avere una una propensione ecco all'utilizzo del computer questo sia credo sia un fattore molto importante. Allora mi aggancio a quest'ultima quest'ultima cosa che hai detto ehm perché abbiamo parlato in passato in incontri che abbiamo fatto nei mesi scorsi delle infrastrutture critiche del paese e della possibilità di modellare eh non solo l'infrastruttura stessa parlo di infrastrutture fisiche chiaramente ma anche i processi sottesi attraverso strumenti come come il BIM. eh però eh mi rendo conto che al di fuori appunto magari del dell'ambito prettamente degli addetti ai lavori questi strumenti sono poco conosciuti ed è forse un peccato perché sono strumenti che secondo me possono avere un apporto utile anche da professionalità esterne diciamo al mondo no? Della dell'architettura e dell'ingegneria se vogliamo. E da questo punto di vista ecco possono secondo te esserci margini per anche per iniziative di impresa a supporto magari no? Dei progetti sia dal punto sia per il pubblico che per poi il privato. Ma ehm allora appunto senz'altro tu citavi il BIM è una tecnologia che aiuta tantissimo nella progettazione perché eh consente di ehm di mettere mano al progetto da parte di di più persone eh senza come dire compromettere il il quadro iniziale che si è dato quindi è molto utile per questo perché è un linguaggio che eh che mette in comune diversi diversi professioni diversi diversi attori nel nell'arco progettuale eh secondo me la criticità di alcuni dei supporti tecnologici è che tendono a cambiare molto rapidamente cioè noi siamo passati da sistemi molto più rudimentali a sistemi molto più specializzati in un periodo molto molto breve cioè nel senso che nel giro di un decennio veramente abbiamo affrontato dato una trasformazione dell'innovazione rapidissima e questo restituisce anche la misura che a volte non ci accorgiamo di quanto l'innovazione in realtà cambia la nostra vita nel giro di un tempo limitatissimo no? Cioè se pensiamo che dieci anni fa era nato è nato l'iPhone oggi magari ci sembra che l'iPhone ci sia da una vita ma non è sempre stato cioè nel senso che alla fine ehm è nato nel 2007 no? quindi non è passato neanche così tanto tempo quindi la stagione dello smartphone è relativamente è relativamente giovane quindi magari come dire uno sforzo nel nel nell'insegnamento del BIM potrebbe rivelarsi un ottimo investimento se fatto nell'ordine non so dei 4-5 anni da adesso perché poi magari tra 8 anni inventano un programma BIM estremamente intuitivo per cui servirà solo cliccare su 3-4 tasti affinché si dia un come dire si raggiunga il risultato che uno vuole prefissarsi quindi perché la strumentazione sarà molto più facile serviranno molti meno passaggi e quindi magari non servirà neanche più una formazione sull'utilizzo di questi programmi quindi abbiamo visto insomma che in generale l'innovazione tende comunque a semplificare il lavoro umano no? e quindi è anche difficile dare forse prospettive di lungo periodo dicendo su cosa bisogna su cosa bisogna imparare a livello dell'informatica forse quello che servirebbe invece sarebbe una preparazione più generale nella predisposizione al mezzo informatico che ti renda ti dia una conoscenza che però è flessibile in base al cambio dei tempi e quindi dei programmi e invece l'ultimissima domanda e poi mi taccio la conoscenza dell'architettura e l'insegnamento dell'architettura nelle scuole quindi non al corso di laurea in architettura ma appunto nelle scuole insieme alla storia dell'arte come... ecco non la vedi un po' una carenza del nostro sistema, del sistema italiano il fatto che appunto si dia così poco spazio per non dire nessuno spazio a questo insegnamento? ma sì secondo me effettivamente si tende magari in Italia a dare più spazio ad altre forme di insegnamento considerate più canoniche e meno alle arti in generale io credo che questo sia un errore perché un paese come l'Italia se non investe sul proprio patrimonio storico artistico che è uno dei cavalli di battaglia per cui alla fine c'era... siamo famosi nel mondo alla fine quindi è anche un peccato che purtroppo anche molti miei coltani non conoscano tante cose del nostro paese che invece potrebbero essere anche un'occasione per riflettere su quanto alcuni maestri del passato hanno fatto per noi perché poi oggi noi possiamo dire abbiamo la cupola di San Pietro perché nel passato qualcuno ha pensato di farla con uno sforzo dal punto di vista non solo creativo ma anche tecnico significativo e quindi senz'altro bisognerebbe investire di più io credo che però servirebbe investire di più sull'insegnamento con nuove forme cioè imparare a fare le costruzioni geometriche, le proiezioni ortogonali oggi a scuola credo serva ben poco francamente per il livello di progettazione a cui siamo arrivati servirebbe invece magari già dalle scuole medie insegnare come utilizzare la strumentazione del disegno informatico perché poi è quella che serve oppure analogamente sforzarsi di insegnare agli studenti a come elaborare e dirigere processi creativi del disegno quindi anche riguardano ovviamente l'utilizzo della matita insomma anche di strumenti più rudimentali che però stimolano di più anche la costruzione delle forme quindi proprio un approccio un po' diverso secondo me Bene, sono molto d'accordo Alberto io ti ringrazio ancora Alberto Bortolotti è stato con noi stasera il libro ricordiamolo nuovamente per chi vuole acquistarlo ne vale la pena speriamo poi di avere anche in futuro l'opportunità di confrontarci nuovamente grazie a voi, grazie a tutti grazie Roberto e grazie Utopian buona serata a tutti